Sì Giuseppe, grazie. Diamo spazio alla lettura, il libro della settimana è la dieta perfetta, un libro manuale per conoscere i principi basilari per una corretta alimentazione. Edito da Hobby & Work, gli autori del libro sono ospiti a Pomeriggio Show. Il dottor Salvatore Bagiamonte, nutrizionista e biologo, è lo chef Giuseppe Puma. Dottor Bagiamonte, siamo alla seconda edizione del libro La dieta perfetta, cosa contiene quest'anno? La seconda edizione io l'ho riaggiustato un po' con la situazione ma fondamentalmente resta la stessa. Quello che ha aggiunto è il concetto del fattore di incremento energetico. Il fattore di incremento energetico è un particolare principio che ho utilizzato io e che è quello che permette di personalizzare le diete non solo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista quantitativo. Praticamente una persona può personalizzare la propria dieta ad ampio raggio, a 360 gradi. Diventa anche una dieta perfetta perché non voglio essere provocatorio, non voglio dire che c'è un alimento perfetto ma che c'è il bilanciamento energetico perfetto. Io l'ho proposto, l'ho scoperto e questo principio è stato accettato dalla comunità scientifica internazionale. Infatti il libro è stato tradotto all'estero, è stato accettato dalla casa editrice EDP Science, che significa Edition Diffusion Press Science. Questa casa editrice è stata fondata da premi Nobel e pubblica tuttora per premi Nobel. Evidentemente il dottor Fontanet ha capito che questo libro ha veramente qualcosa di buono. Il libro è stato tradotto da professor Robert Lufti, che è uno dei più eminenti scienziati francesi ed è un famoso chimico strutturista. Esiste un alimento perfetto o ne abbiamo più di uno? Non sono tanti gli alimenti, sono tutti gli alimenti che dobbiamo utilizzare per la dieta. Ora qualcuno ci specula sopra, qualcuno dice che effettivamente è una questione di indice glicemico agli alimenti. Qualcuno dice che è il rapporto 40-30-30 e quindi si parla di dieta zona. Quello che dicevo poco fa si parlava di dieta low carb. Ma effettivamente quello che dico io è che la teoria classica, la teoria newtoniana, dove si propone il primo e il secondo principio della termodinamica, rimane tuttora valida. Loro hanno venduto molti libri per dire effettivamente che la teoria delle kilocalorie è falsa e io mi auguro di vendere parecchi libri per dimostrare che la teoria delle kilocalorie è vera e che ogni persona possa imparare a costruire la propria dieta in maniera semplice. Il mio libro infatti è questo, è un semplice manuale. L'editore mi ha chiesto di lavorare per un altro libro, ma questo resterà sempre il libro classico e il libro di base per tutte le persone. Chef, a lei è il compito di esprimere i piatti seguendo le indicazioni del dottor Bagiamonte. Cosa ha elaborato? Sono 20 ricette in tutto nel libro? Diciamo che strettamente sotto la sua un po' accuratezza, prendendo un po' in ordine quelle che sono state i suoi principi, mi sono praticato a utilizzare un po' gli ingredienti di base, tanto più della cucina mediterranea che sono quelli che hanno fatto scalpore, anche perché degli studi hanno acclarato che mangiando o comunque facendo uso alla dieta mediterranea si vive più nel tempo. Diciamo che io, il mio è stato forse un compito un po' più semplice, perché non abbiamo fatto altro che, almeno io ho preso degli ingredienti un po' più di stagioni, anzi farei anche una raccomandazione a tutti coloro che ci seguono, di utilizzare rigorosamente gli alimenti che seguono le stagioni. E abbinando un po' a delle cotture adeguate, consiglio come sempre utilizzare delle cotture molto soft, come la cottura a vapore, la lessatura, un po' delle cotture che non aggrediscono l'alimento, ma che mantengano esattamente i principi nutritivi dell'alimento stesso. Per poi un po' armonizzare il tutto e metterlo un po' giù su 20 ricette, e quindi chi ci leggerà avrà il piacere e il divertimento di poter cucinare divertendosi. Quindi un punto importante è anche la cottura dell'alimento. Esattamente. Utilizzare dei grassi, o comunque sia, l'utilizzo dei grassi va fatto in maniera abbastanza sobria, perché io dico sempre, o comunque faccio sempre così, quando io utilizzo il grasso, diciamo il condimento reggina delle nostre tavole, che è l'olio extravergine d'oliva. Con molta preferenza bisogna comunque utilizzarlo a crudo, condendo un po' dell'insalato, comunque tutti quei prodotti che necessitano appunto l'utilizzo, evitando appunto quei prodotti semilavorati, che tantissimo ci impongono le grosse aziende alimentari, che comunque poi alla fine non danno nulla. Quindi se prima il concetto di dieta era un regime alimentare ristretto, oggi possiamo parlare invece di corretta alimentazione. Sì, possiamo parlare di corretta alimentazione, però voglio sottolineare una cosa. Pensate di avere un fratello gemello, che rispetto a voi ha il peso forma. Quindi immaginate anche questo fratello gemello, oltre ad avere il peso forma, fa anche la vostra stessa attività fisica. Voi non dovete far altro che alimentarvi come si alimenta il vostro fratello gemello. È il regime del vostro fratello gemello che rappresenta il fabbisogno energetico ideale. Ecco la teoria principale del mio libro. Pensate di avere un fratello gemello, e che il vostro fratello gemello ha il peso forma, e voi alimentatevi come si alimenta il vostro fratello gemello. Si parla di fabbisogno energetico ideale e fabbisogno energetico reale. Quindi chiamatelo pure il regime dietetico del vostro fratello gemello.